La cella zero è una stanza circa di due metri di larghezza e tre metri di lunghezza. Una finestra, cioè, sempre tutte chiuse, che è cancellata, sbarra e tutt'ora. Se ti giri e ti guardi intorno, trovi parete sporche di sangue, persone che si sono dovute pulire con le mani e pulendosi alle pareti. E niente, con la cella vengono picchiati tutti i detenuti, tutti quelli che commettono delle cose che a loro non ci stanno bene. Se mettono delle quattro volte a torno a te, a scusa quando fanno qualche domanda, boom, 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 e ti abbuffano i mazzani. Ti scassano, senza pietà. Bossa o non bossa, voglio un normale, chi si siano, se non fotte, ti stai scchiato, no? A me mi hanno sempre fatto tutto per senza reno, per senza reno. Mi hanno sempre fatto la sangue per tutt'ora. Mi torsero la bella, che io vido questa luce, la gabbela e la forca. Io in quel momento mi cagò, è seduto dalla paura. Chi si è fucitato? Fucitato? Si intrasse qualche buono, ma io non andrò, intrasse, mi esce buono. E mi dico, amore mio, è impossibile, non ci può morire 34 anni, non ci può morire 34 anni, non ci può morire così, non ci può morire così. Mi dico, amore.